Benvenuti, ben ritrovati dalla redazione di Firenze Viola Supersport, Tele, Firenze Viola Supersport, l'emanazione al comunitario canale Firenze Sport 1, da Stefano Ballerini, a Dico Milano che mi segue in cabina di regia, dalla redazione mi ha aiutato a comporre il testuale che già potete trovare da ieri a completamento di tutte le cose della Pallamano Nazionale, e non solo Paolo Caselli. Allora cominciamo dalle future notizie nazionali, qualificazione agli Euro 2026 Italia-Servia si giocherà il 10 novembre a Fasano, potrete andare a trovare e a prenotare i biglietti ovviamente su Viva Ticket, per cui la Pallamano italiana comincia a contare countdown in atto che la dividono dal grande appuntamento del 10 novembre prossimo, quando per la prima volta al Parasport di Fasano e non a Chieti. La nostra nazionale sfiderà la Serbia, ora in partenza 18 per la seconda giornata del gruppo 4 di qualificazione per gli Euro 2026. Sarà la prima partita in casa dell'Italia dopo la qualificazione ai mondiali centrati, ricordatevelo, a 27 anni di distanza nel maggio scorso tra i match di Conversano e quello di Podgorisa. Dallo scorso 18 ottobre la prevendita dei biglietti è attiva nel circuito Viva Ticket, intero tribune, curve e tribune laterali, 10 euro, ingresso libero per Under 14 presentandosi direttamente al valco accessi dedicato del Parasport. Dunque www.vivaticket.com.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it ricordando che sabato e poi vedrete la partita in telecronaca registrata alla fine di questa emissione vedrete sia la partita di serie a bronze della prima squadra che ha battuto altamura 32 e 19 più quella della serie b che è andata a vincere a massa marittima abbiamo trasmesso la diretta sabato grazie alla stringa della diretta facebook a cui ho potuto mettere voce ringrazio per la gentilezza nei miei confronti abbiamo battuto altamura 32 a 19 allora andiamo però questo è il titolo di entrata andiamo però ai titoli nazionali la european cup brixen qualificata al terzo turno bravi sassari perde di misura l'andata contro l'itfac e allora la fotografia ovviamente da fig.it il sabato di european cup emette i suoi verdetti brixen bravi eliminano i faroesi dell'h71 con due vittorie 40 a 33 e 34 a 30 e i brissinesi si qualificano al terzo turno finale amaro al pala santoro per la raimon sassari i sardi perdono 39 a 38 primo tempo 19 21 con un tiro da 7 metri sbagliato da amidovic a tempo scaduto l'occasione di uscire perlomeno con un giusto pareggio nulla di compromesso comunque visto che resta da giocare la partita del 26 ottobre di ritorno prossimo agli ubuschi in casa dei bosniaci brixen va dunque avanti forte del più 7 dell'andata giocata il 17 ottobre due giorni dopo bressanone ribadisce la propria supremazia e batte l'h71 formazione di ovic isole favore col punteggio di 34 30 primo tempo in parità 15 15 questa è la foto da fig.it partita in gestione degli altotesini nelle cui fila il pivot andrea basic chiude miglior marcatore con sette reti un dato complessivo di 17 reti in 120 minuti gli altotesini girano l'andamento del match più tre ospite con more hogensen dopo 22 ma canete in sacca il 15 15 che chiude il primo tempo parziale altoatesino brecche in inizio di secondo tempo 5 a 0 dal 20 20 al 26 20 per prendere in largo e condurre la gara e portare la qualificazione in porto sassari è ancora in corso mille emozioni al pala santoro dove l'itzvac vince 39 a 38 primo tempo 19 21 grazie a una parata di sullevice sul titolo dei 7 metri a tempo scaduto peccato per i sardi di antoni la era sfuma l'opportunità di uscire perlomeno dalle mure amiche con un risultato favorevole ma il meno uno tiene tutto in bilico in bilico per la gara di ritorno del 26 ottobre agli ubuschi l'errore dai 7 metri non macchia la prova di amido vince che chiude con 13 su 20 e trascina e rosso blu dall'altra parte il terzino diano cesco è il principale terminale offensivo dei balcanici 50 per cento per lui 8 su 16 al tiro sassari recupera uno svantaggio di quattro reti 11 7 pareggia con bronzo ex siena 12 12 al 18 vantaggio sardo al termine della prima frazione 21 19 la ripresa era un'altalena di emozioni fino alle palpitazioni conclusive passivo it's back cambio di possesso 7 metri fallo su coppola su lievice para su amidovic it's back vince ma la qualificazione ricordiamo è ancora assolutamente aperta arriviamo alla serie a gold conversano tiene le mani sul suo primato la settima giornata di serie a gold conferma conversano al comando i pugliesi si mettono alle spalle anche la macaji cingoli la squadra tanto cara al mio vice direttore paolo caselli fanno sette su sette subito dietro il rivio di brixton c'è cassano magnago il risultato già acquisito tra raimon sassari e bolzano giocata in anticipo per gli impegni di coppia di sassari finita 29 27 contribuiscono ai valori di una classifica ancora ovviamente presto da divenire si rifanno avanti team network albatro alperia black davis e pressano vado a darvi i risultati allora l'anticipo sasta di bolzano 29 27 poi camerano junior fasano 23 25 pressano secca rubiera 28 22 sparerepp andi appiano albatro 23 32 conversano cingoli 32 25 alperia black davis chiaravalle 32 a 20 di martedì 22 noi stiamo registrando in anticipo per problemi di intasamento della nostra redazione brixton castano magnago andremo ad aggiornarvelo ovviamente mercoledì mattina rassegna stampa conversano 14 sassari 12 castano magnago 11 una gara da recuperare bolzano 11 albatro 10 pressano 8 alperia black davis 8 fasano 7 brixton 5 una da recuperare sparerepp andi appiano 4 macaji cingoli 2 camerano 2 chiaravalle 2 secca rubiera 0 grazie all'amico vanni caputo la foto credit andiamo alla serie a silver ricordo che il prossimo anno non ci sarà più la serie a bronze diventa tutto silver a saranno ammesse in serie a silver le prime cinque dei due gironi da sei squadre l'uno dell'attuale bronze girone a e girone b per cui tavarnelle che per ora fa parte del bronze girone b viaggia e poi ci arriveremo con due vittorie su due il la missione di tavarnelle è vincere tutte in casa abbiamo cominciato battendo altamura 32 19 abbiamo un vinto a casa grande dove bisogna vincere perlomeno tre partite in trasferta una l'abbiamo fatta per classificarci tra le prime cinque ma tavarnelle puntano voglio dire a uno dei primi due posti di qualificazione nel girone b pertanto questa è la mission di tavarnelle quest'anno in serie a silver trieste è l'unica squadra a punteggio pieno belluno in segue andiamo a darvi solamente il commento di fighe punto it sulla serie a silver le immagini la quinta giornata di serie a silver evidenza ancora la superiorità di trieste che superando romagna di 4 24 a 20 conquista la quinta vittoria in altrettante sfide e continua a comandare in maniera solitaria la classifica resta in scia il solo belluno che si aggiudica in versione esterna la sfida tra le inseguitrici con riva molteno battute di un solo gol 24 a 23 grazie ad una rete ad un secondo dal temene del terzino argentin l'enna si proietta in zone playoff superando genea lanzara 35 26 relegando i campani in ultima posizione il verde azzurro sastra di supera i bresciani del metelli colonia 31 22 mentre il team masca lucia conquista il primo successo stagionale superando il campus italia di 2 27 a 25 il match tra bologna united e carpi non si è disputato a causa delle avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabile il palapeppino impastato di balzano auguri auguri a tutti popolazioni dirigenti giocatori società di tutti i campionati per ora nel mio a tutto enbole per tutto quanto che stanno incredibilmente vivendo con un alluvione di seguito all'altra vi ricorderemo sempre inneggeremo sempre al vostro ritorno alla normalità verde azzurro metelli colonia e 31 22 masca lucia campus italia 27 25 orlando enna genea lanzara 35 26 trieste romagna 24 a 20 bologna united carpi non disputata verrà recuperata molteno belluno 23 24 trieste 10 bellumo belluno 8 riva molteno romagna 6 enna 5 solution carpi 5 1 da recuperare metelli colonia 5 verde azzurro sassari 4 punti campus italia 4 bologna united e 2 una da recuperare team masca lucia 2 lanzara 1 arriviamo alla serie a 1 femminile castano magnago è andata alla pausa azzurra tra prima della classe salerno last second contro pontinia e allora andiamo a vedere anche qui cosa ci dice nel commento di fig punto it la serie a femminile arriva alla pausa per gli impegni della massima nazionale femminile i primi acuti della regola al season arrivano batticuori a salerno dove la iomi batte all'ultimo secondo pontinia davanti c'è sempre castano magnago imbattuta dopo il derby giocato alleno in coda primi punti per padova adesso spazio alla nazionale da domani martedì ripeto noi stiamo registrando di lunedì 21 ottobre nazionale femminile raduno a chieti dove dal 25 al 27 dalla costa e compagni affronteranno lussemburgo e bulgaria per le qualificazioni ai campionati mondiali 2025 andiamo a vedere anche qui quello che è andato a referto briksen sul tirol lion sassari 38 a 24 a riosto mezzo corona 24 a 20 leno castano magnago 17 30 lifestyle erice padana 30 17 iomi salerno pontina 24 23 all'ultimo tiro teramo cellini padova 25 27 castano magnago come detto 12 solitaria iomi salerno 10 briksen sul tirol 10 lifestyle erice 8 con due gare da recuperare per cui 8 10 12 virtualmente potrebbe se vinte raggiungere castano magnago pontinia 8 sicur fox a riosto ferrara 8 casa grande padana 4 leno 4 teramo 2 cellini padova 2 1 da recuperare mezzo corona 0 1 da recuperare lion sassari 0 grazie all'amico nicolò dametto la foto credit per la puntata e arriviamo a quello che serve a noi allora chiedo enrico milano che ringrazio di essere sempre qui accanto a me grande regista se non ci fosse lui non esisteremo noi serie a bronze ricordo è l'ultimo anno le 5 del la bronze girone a e b il prossimo anno transitano se promosse in serie a silver la bronze sparisce tutto il prossimo anno sarà molto molto più complicato allora vinciamo a bustecca due su due vinto a casa grande vinto con alta mura 32 19 è come vedrete dalla registrazione dalla partita che manderemo subito dopo un minuto di silenzio per ricordare la mamma del sindaco baroncelli scomparsa in settimana un bacio alla signora e allora era stata archiviata la prima giornata nel campionato di serie a bronze con 16 squadre delle 18 dei gironi a b scese alla prima giornata in campo e allora per quello che riguarda il girone b andiamo a vedere con le immagini che arrivano da bustecca dalla nostra telecronaca pallamano tavanelli altamura 32 19 primo tempo 15 11 allora doveroso complimenti ad altamura che era partita sabato alle 6 e mezza da altamura in fondo alla puglia a pescara si rompe disgraziatamente uno dei due pulmini salgono in 10 nel pulmino rimasto partono alla volta di tavarnelle arrivano sul campo verso le 5 5 un quarto chiedono ovviamente la mezz'ora di comporto per poter rifiatare mangiare qualcosa e fare riscaldamento gara iniziata alle 18 e 30 bravi tutti comunque non era semplice e allora 32 a 19 primo tempo 15 11 tavarnelle con ciani bravissimo e panti i portieri 5 di borgiani di cui due su rigore licesio dominatore con 9 magnani 1 andrea calosi provvedi francesco 4 flash e tutti nel primo tempo a garantirci l'avvio moffini doppietta bucci bazzani 1 chiamato dalla panchina entra e tira il segno al rigore si lei sing nardi 1 barbarito vice capitano 2 del mastio 1 attenzione poi lo sentirete i nostri microfoni brevemente abbiamo avuto l'input di non caricarlo di troppe responsabilità che le sue giovanissime spalle non possono portare ben iba 6 allora a casa grande 3 in serie b nella partita vittoriosa la prima giornata di campionato ne segnò 8 ieri sabato secondo impegno in serie a ne segna 6 questo ragazzo che è straniero attualmente si sta lavorando per trovare il modo di calcolare da quanti anni lui sia in italia non lo so per farlo diventare italiano attenzione alessandro pierattoni poi ce lo dirà tavarnelli ha già ricevuto offerte prestanti per il ragazzino che se potesse diventare italiano a stretto giro riposta farebbe gola direttamente alla nazionale di trillini alle prese con la ripartenza con il nuovo ciclo questo ragazzo è superlativamente fortissimo lo vedrete nella partita sei gol di cui uno davvero di rara potenza che mi ha fatto davvero infervorare altamura lo guarro in porta laurieri sci dagli altri due portieri che sono entrati nel secondo tempo tortorelli cavallo qual è il migliore sei di cui due su rigore chironna 5 lo capo 1 populizio 2 nicoletti 2 simone gentili 2 allenatore pepe hanno arbitrato gli amici coppi e dana allora a bustecca tavarnelle mi sono dato disponibile per trovare un nome più consono bustecca e brutto effettivamente tavarnelle si raddoppia battendo nettamente un volenteroso altamura 32 19 primo tempo 15 11 arrivato a ranghi ridotti a causa della rottura di un pulmino dalle parti di pescara per una gara posticipata di mezz'ora tavarnelle vince si raddoppia 2 più 2 fa sempre 4 in testa la classifica primo tempo con un solo minuto di impassa altamura in vantaggio 4 a 3 poi l'entrata in coppia del professor francesco boom 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 provvedi mette tutto a posto dando l'inizio vittorioso al tavarnelle di lì in poi non c'è più partita il triangolo irresistibile provvedi borgiani licese non è controllabile dalla difesa pugliese il portiere lo guarro compie sì un paio di miracoli guarez è l'unico punto di riferimento a cui da una mano chirona tavarnelle va alla prima mezz'ora 15 11 con 4 gol di provvedi 3 di borgiani 2 di beniva e licchese single per del mastio nardi moffini e magnani nella ripresa le danze sono condotte da un superrimo il mio amico il professore angelo belloli mi permette ryan ben iva che segna 4 gol immediati esaltando la platea insieme al virgulto golden boy tavarnellino si scatena anche l'ex prato il nuovo di quest'anno di tavarnelle carletto licese che dopo i due del primo tempo ne segna 7 finendo a 9 che incastona gol su gol alle spalle di lo guarro prima laureeri e infine scida solo un passaggio oscuro allora gli albiti dana e coppi mettono fuori due tavarnellini vedrete la partita sospesa e le proteste poi anche sciani il portiere la squadra di prendo il gioco 4 contro 7 va detto al possesso di palla segniamo due gol 4 contro 7 passando dal 18 12 al 20 12 rubando due pallone andando a breccare altamura ultra pesantemente ma lì poi succede un problemino tra ciani e panti boh non dico più nient'altro per non stuzzicare il can che dorme ci sono state proteste il match si è interrotto lì poi uno stanco e sfinito altamura partito alle 7 non riusciva a riavvicinarsi la panchina pugliese si sbracciava e protestava ma non serviva a niente la partita si ghiaccia tavarnelle passa quota 30 chiude con la seconda vittoria bravissimo superlativo superciani in porta gli piace adesso tuffarsi negli ultimi anni non l'avevo mai visto le staffette provvedi borgiani nel primo tempo superimo beniba e licese nel secondo fanno la differenza danno il loro aiuto doppio moffini doppio barbarito i singolaristi magnani poi eh che entra e segna in media pre in ehm in media presto subitissimo e media presto un tiro di rigore del massio fermato in un paio di perimetri da sinistra jacopone magnani sfortunato in un paio di occasioni anche sin grandissima partita di nuovo dopo i miracoli di casa al grande ripeto di super mattia ciani adesso turno di riposo poi la lunga prima trasferta al sud in quel di fasano la serie b era impegnata a massa marittima vedremo doppietta anche in questo caso vittoria anche dei giovani virgulti le parole di matteo pelacchi le sentiremo sul sito www.firenzeviolasupersportlive.it.com nel reparto del nostro super weekend sportivo le parole anche scritte di pelacchi allora mi prendo un secondino di pausa per raffrescarmi la gola da erico milano tutto il compendio delle interviste da bustecca linea alla regia questa è andata grande mister rice grande tavannelle 32 a 19 il punteggio contro altamura che ha avuto un problema nell'arrivare qui bradi comunque ad essere arrivati qui credo di poter dire una squadra così bella non l'avevo mai vista allora noi abbiamo fatto un ritmo che volevamo e partita stata di alto ritmo non era tanto bellissima però dico con una partita in ritmo loro erano stanchi perché venivano qua quasi dieci ore con pullman sono venuti anche in ritardo allora si aspettava solo che crollano complimenti a loro hanno lottato fino alla fine hanno provato a rispondere in tutti i modi e complimenti anche a miei ragazzi che hanno partecipato tutti il suo minutaggio che gli ho dato senti dobbiamo chiamare trillini beniva è già pronto sì sì beniva si vede che fa passi avanti deve essere paziente perché anche noi con lui anche noi con lui e lui con noi però dico l'importante che si vedono progressi con i giovani professor provvedi sempre in cattedà borgiani licesi e questo è un grande tavarnelli e stasera grandissimo ciani tra i pali sì sì ciani ha ripetuto partita di casa grande provvedi e quelle ragazzi che hanno esperienza ci danno una grande mano per tirare fuori qualche giovane perché senza quelli esperienti anche giovani non si possono vedere un misto buonissimo per mio gusto e andiamo avanti così e anche la seleb è partita bene una squadra diversa dall'anno scorso un anno di esperienza in più per cui sto cercando lo scultore per farti il mezzo busto in piazza a tavarnelli sì sì ma dico andiamo partita dopo partita adesso siamo liberi questa giornata è una pausa dopo si va a fasano che già un campo diciamo molto ostico e vediamo cosa succede raice mister ti abbraccio ti voglio bene grazie di tutto grazie 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 ora ryan beniba sei gol tre a casa grande otto in serie b sei alla seconda uscita inserà ho chiamato il mio amico trillini perché non so se esagero che sei già pronto per la nazionale di oggi e per i 10 anni in futuro sei pronto grande rivelazione ti faccio i miei più cari auguri e ringraziamenti grande prova grazie mille tutto è dovuto a questa esplosione ti dobbiamo tenere tranquillo non ti dobbiamo caricare di responsabilità sempre testa bassa e lavorare testa bassa e lavorare sempre testa bassa e lavorare senti ma è difficile gestire due partite in due giorni serie a serie b serie b ormai mi sono abituato già da un anno e niente due partite le gestisco bene adesso ok allora veniva ti abbraccio grazie di essere tra di noi sei la speranza azzurra del futuro ok grazie mille a presto allora alessandro ferattoni 32 a 19 secondo successo consecutivo l'esplosione di beniva un gruppo straordinario il nuovo liccese i ragazzi che giocano in serie b che giocano in serie a giocano segnano divertono questo è un grande è un grande risultato una grande panamara tavarne diciamo che quest'anno si sono aggiustate alcune alcune cose ci siamo rinforzati c'è la mano di un professionista si vede rai o dragon rai ci si vede quindi credo che abbiamo iniziato bene non bisogna come posso dire bisogna rimanere sempre con i piedi in terra però credo che non non deluderemo i nostri tifosi specialmente in casa penso sia difficile per tutti certo ci aspettano delle difficilissime trasferte come è stato difficile per i nostri avversari di oggi venire a tavarnella a barberino da altamura noi dovremo andare a altamura dovremmo andare a chieti dovremmo passano alla ripresa del campionato è un campionato difficile è un campionato difficile è presto per fare previsioni ma abbiamo cominciato bene chi ben comincia tu sai benissimo che dovrebbe essere la metà dell'opera ma è lunga e quindi avanti così vediamo dai senti dicevo una cosa ben iba è una cosa cosa dobbiamo fare con lui ben iba è un nostro valore aggiunto è una grande risorsa fa parte di quello che è il nostro progetto no di far crescere i nostri ragazzi è un talento naturale spero che rimanga con noi spero che rimangano vuol dire già avute richieste purtroppo si può sapere no non si può sapere ovviamente ma chiedere giù la mano io ho detto a ben iba e anche a a ryan telefono a mio amico trellini e gli dico che questo ragazzo deve essere chiamato subito seppure ancora in età da giovanili perché questo è un prospetto straordinario e credo che la nostra pallamana abbia bisogno di soggetti come lui sì o siamo troppo anticipati ancora siamo anticipati soprattutto perché è di nazionalità estracomunitaria vediamo in futuro che cosa può succedere a livello sportivo non so quali sono le strade per fargli ottenere la cittadinanza italiana la convocabilità nazionale ma insomma queste non sono cose che che ci riguardano ma diciamo che per ora è un grande è un grande regalo che abbiamo nella nostra società e quindi ce lo teniamo stretto vediamo in seguito che cosa può succedere senti è il campionato interrotto la il prossimo turno fa la mano tavana generale riposa è un bene o male tirare fiato fa bene in questo caso o interrompere un galoppo vincente un lavoro lo stop potrebbe essere ora controproducente potrebbe anche essere controproducente sta nella nella intelligenza dei nostri ragazzi io non dubito nell'intelligenza dei nostri ragazzi di non mollare negli allenamenti e quindi può anche essere un bene al 50 per cento diciamo ecco riposarsi un po' correggere quello che c'è da correggere mister dragan ci aiuterà sicuramente ora si prende qualche giorno di riposo ad affare a casa sua e quindi quando torna dovrà lavorare solo ora è nelle sue mani insomma la squadra viva la pallamano tavarnello è uno di noi sempre grazie alessandro per antoni per attoni grazie di tutto grazie a te e ci vediamo la prossima volta grazie grazie da bustecca davvero è tutto questo è il magnifico palazzetto di tavarnello e barberino allora in fondo la chiacchierata con matteo botta pelacchi il dirittore sportivo di questo magnifico tavarnello e distingo grazie comunque ad altamura che ha saputo arrivare fin qui con tutti i problemi che ha avuto per cui buon viaggio ragazzi di altamura che devono tornare arriveranno domani mattina all'alba ad altamura 32 19 4 punti due vittorie delle certezze no provvedi che si è messa la squadra nel primo tempo sulle spalle è carletto licese che ha contribuito è doborgiani non posso non riparlare con te di ryan beniba qui come come vogliamo come vogliamo gestirci perché il presidente per attoni mi ha messo una mosca nell'orecchio avreste già avuto richieste sì ma questo non vuol dire niente cioè io sono contento anche per la sua prestazione perché sei gol allora tre a casa grande otto in serie b sei di nuovo in serie a questa è questa è un è un ragazzo che giustamente il mister lo sta inserendo molto bene nel gruppo i ragazzi lo aiutano questo va detto e lui ha delle potenzialità incredibili per l'età che ha sta lavorando bene fa sempre quattro allenamenti fa palestra presi quindi è un ragazzo che si impegna tantissimo e si vede le sue doti anche in campo sì questo è vero alcune squadre anche maggiori lo vedono perché comunque sono video e tutti è un ragazzo richiesto ma questo non vuol di niente cioè l'abbiamo noi lui deve farsi esperienza in a bronze e poi dopo staremo a vedere nel futuro senti superciani ha cominciato a a desiderare di volare su ogni pallone perché negli anni scorsi non l'avevo non l'avevo visto poi si è specializzato e so che questa l'ho vista una gara meravigliosa di di stefano sani mattia mattia scusa ragazzo senatore molto esperto che anche lui sempre in silenzio perché un ragazzo sempre sito ma che lavora tanto e ha fatto una grandissima partita a casa grande ci ha tenuto in partita primo tempo è merito suo e oggi ha disposto alla grande anche oggi nonostante sia un infortunio di niccolò vanni e purtroppo poverino eh ne capitano tutti i colori come si dice quindi però ecco mattia eh in questo momento sta veramente facendo facendo molto bene senti al di là dei discorsi ovviamente accentrati sui singoli a livello generale questo tavarnello dove vuole arrivare? Eh abbiamo costruito una squadra per poter arrivare in cima quindi non ci nascondiamo intanto l'obiettivo principale era quello di fare quattro punti in due partiti ora abbiamo la sosta poi si va a Fasano poi andiamo a Fasano in un campo difficilissimo dove nelle trasferte più lunghe alcuni ragazzi non saranno disponibili ma l'avevamo già detto all'inizio dell'anno quindi andiamo con giovani ma ce la giochiamo ce la vogliamo giocare su tutti i campi questo sicuramente poi sarai 40 per 20 a parlare io sono per adesso non posso essere contento perché vedo un grande spirito vedo un grande lavoro in palestra e vedo anche che alcuni magari non riescono a fare i tre barra quattro allenamenti ma quando vengono si impegnano alla morte questo è importante sia per quanto riguarda il gruppo della Serie A ma sia anche per quanto riguarda il gruppo della Serie B della Serie B perché non ci nascondiamo la Serie B la settimana scorsa ha fatto un partitone con tutti i giovani in campo contro Medicia quindi si inizia anche a vedere il lavoro dei ministri dello staff tecnico e di questo ne sono contento per adesso voto 10 possiamo esagerare a dare i 10 perché mi sembra un po' troppo esagerato soprattutto perché tu mi conosci Stefano quindi io sto sempre molto basso ma insomma diamo un bel sette sette e mezzo per adesso siamo bravi due due partite un altro aspetto nel casa vinta otto pieno otto pieno bene buona domenica e buon lavoro in casa a Tavarnele grazie Matteo grazie a voi allora grazie a tutti i dirigenti atleti del Parlamento Tavarnele per la gentilezza sono tutti rimasti aspettando le mie interviste di fine partita Tavarnele Altamura 32 a 19 passo risultati Monteprandone Noci 34 a 16 Chieti Modena 33 23 a sorpresa Serra Fasano Casagrande 29 25 la classifica Tavarnele 4 Pallamano Chieti 4 poi abbiamo Serra Fasano 4 perché ha concluso il tabellino di fine serata Monteprandone 2 Pallamano Modena 2 Spallanzani 0 Lions Teramo 0 Altamura 0 aveva riposato nel primo match Noci 0 la classifica marcatori allora conduce Landero Luca Nicolás di Monteprandone 16 poi Michita si so doni difficilissimo di Chieti 16 poi arriva Carlino Liccese 14 Pallamano Tavarnele Francesco Provedi 14 Pallamano Tavarnele Samuele Caramagno 11 per Chieti Lautaro Vera Geronimo per Chieti con ecco Edoardo Borgianni 10 per Tavarnele Roberto Bucco 10 per Noci 10 Alessandro Tritto Monteprandone a 9 Beniva Ryan 9 gol ma mi raccomando non carichiamolo di troppe responsabilità lui è stupefacentemente straordinario allora andiamo a proseguire intanto andiamo a dirvi che sta per iniziare anche la stagione 2024 25 della serie A2 femminile Euro e Med Mugello e Tusce Prato sono nel girone C e dunque girone A Taufest Brunek Oc Pusterstal Brixen Schenna Laugen Mezzocorona Cus Udine Telf Metal Tirol siamo a parlare di squadre dell'alto nord Italia tutte al alto a tesino quasi girone B Ferrarin Leonessa Brescia Oderzo Mestrino Guerriere Malo Dosso Buono Città del Redentore Sassari Enbol Nuoro nel girone C Mugello Chiara Valle Tusce Prato Conversano Trapani Alicada e Matroina e dunque la prima giornata sarà Pallamano Mugello Gattopardo Alicada poi troveremo Chiara Valle Conversano di seguito Trapani con il Matroina per quello che riguarda l'inizio della regola season girone A e B 19-20 ottobre il C giocheranno la prima partita dal 2-3 novembre e allora questi sono gli impegni serie a due femminili la prima giornata andata a già a referto come detto Taufest Telf 35-27 Brunek Laugen 24-30 poi Mezzocorona Zinner non lo abbiamo riflettato come su Tirol e Cussudine posticipi che non abbiamo non sono stati ricevuti e dunque questa è la situazione nel serie A femminile girone B Mestrino Città del Redentore 40-14 Olimpica addosso buono Nuoro 23-26 Ferradin Odezzo 26-25 Sassari Leonessa Brescia anche questo era il posticipo e non è stato refertato andiamo e facciamo partire le immagini anche del match di serie B il derby attesissimo Olimpiche massa marittima Tavarnelle pallamano allora seconda giornata il Tavarnelle vince e si raddoppia i ragazzi neroverdi vincono a massa nel presso statico 29-27 esaltante prestazione in trasferta per il giovanissimo gruppo di serie B che spugna meritatamente il campo di massa marittima dimostrando ottimo gioco di squadra e già grande sincronia 2 più 2 fa sempre 4 magistrale guida in panchina per il duo Maurizio Ghini e Frank Nicolas i ragazzi stanno lavorando ottimamente piano piano cominciano a togliersi enormi soddisfazione Pelacchi dice avanti così Follonica ginnastica spezia 28-32 Arezzo pallamano prato 22-36 Olimpiche massa marittima la Tavarnelle 27-29 dopodiché io sto registrando lunedì alle 13.35 questo pomeriggio e questa sera prima Pallamano Mugello Cararese ore 21 il 26 di ottobre il posticipo Medicia Poggia Cagliano Grosseto Pallamano Prato ginnastica spezia Tavarnelle 4 Mugello Follonica 2 Grosseto Medicia Olimpiche massa Cararese e Petrarcarezzo hanno 0 punti allora queste sono le immagini voi rimanete con noi noi chiudiamo questa puntata di a tutto embold in martedì 22 ottobre ricordo registrata per intasamento massimo della nostra redazione fiorentina di lunedì verso le ore di pranzo per cui tutto quello che succede dopo ve lo aggiorneremo mercoledì un passaggio promo uno dei pochi concessoci perché siamo comunitari e ne abbiamo pochi da far passare quei pochi li utilizziamo dopodiché la telecronaca registrata del match di serie a bronze Tavarnelle Altamura e poi a seguire quella di Massa Marittima Massa Marittima Olympic Massa Marittima pallamano Tavarnelle di serie B da Stefano Ballerini Paolo Caselli che mi ha aiutato a redigere tutto quanto Enrico Milano in cabina di regia un bene che ci sia lui che lui c'è noi agiamo se lui non ci fosse noi avremmo già chiuso grazie buon proseguimento di programmazione la linea torna alla nostra regia grazie da canale 187 Firenze Sport 1 ovviamente tutto gestito da Firenze Viola Super Sport